La cyber security non può essere considerata solo un elemento aggiuntivo da integrare in risposta a un rischio emergente. Il recente caso del 3 maggio scorso dell'attacco hacker subito dall'Ase dell'Aquila con il danno di furto di dati relativi a pazienti dipendenti senza tralasciare info amministrative per un totale complessivo di oltre 500 GB è un fatto increscioso. Come spiega l'ingegner Massimo Forestiero, nel caso specifico si tratta di un virus che blocca ecripta i dati rendendoli inutilizzabili fino al pagamento di un riscatto. 10 GB di dati sono già stati pubblicati sul Deep Web. Occorre innanzitutto prevenire e mettere in atto delle blindature del sistema, quindi con dei sistemi che vanno dai firewall a sistemi di UBA, sistemi di antispam, ma soprattutto fare anche tanta formazione perché il 95% dei malware che creano poi questi problemi viaggiano via mail, spesso anche via PEC, quindi fattore umano ma soprattutto fattore tecnologico e soprattutto investire poi nel caso in cui si dovesse verificare un attacco in quelle procedure di disaster recovery business continuity, quindi con delle procedure di backup idonee per poter restaurare i dati e continuare a lavorare senza grossi problemi anche in caso di riscatto che non va ovviamente pagato. La chiave di lettura della problematica che si è venuta a creare scomoda anche una visione culturale non proprio adeguata ai tempi del digitale. È fondamentale avere delle procedure che ci consentono di tutelare i nostri pazienti, tutelare le loro informazioni, ma soprattutto come medici tutelare i dati sanitari perché sono ancora più delicati, diciamo, della normale gestione delle altre tipologie di dati. Per cui dobbiamo fare attenzione a come teniamo i dati, a come li conserviamo, come li trasmettiamo ed assicurarci che chi le prende in consegna ne abbia la stessa cura. Il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali 2016-679, siglato come GDPR, resta la principale fonte di riferimento europeo in fatto di procedure per quanto riguarda la protezione dei dati, ma nei fatti, come rimarcato durante il convegno di questa mattina organizzato dall'Ordine dei Medici di Pescara, è l'atteggiamento verso la responsabilità che fa la differenza.